Allora, mi chiamo Alberto Granese, presento il mio libro intitolato «Orizzonti di lontano i tastini, dai canti dell'Empirio di Dante alle inchieste civili di Sciasce». Bene, la caratteristica fondamentale di questo libro è che riprende in un certo senso un suggerimento dal corpus delle novelle di Tirantello. Come tutti noi sappiamo, questo corpus di novelle è stato inteso come un'allegoria proprio della scomposizione umoristica di Tirantello, nel senso che queste novelle sono sostanzialmente collegate a caso, non hanno sostanzialmente un collegamento interno e soprattutto, questo è l'elemento importante, sembra che Tirantello volutamente e programmaticamente li abbia composte in questo modo, li abbia collegate in questo modo. Allo stesso modo è questo libro, cioè volontariamente e volutamente e programmaticamente questi elementi che sono all'interno del libro, cioè i vari capitoli, i vari saggi, non hanno un collegamento particolare, non c'è la solita affinità che molte volte viene trovata in maniera forzata, hanno una loro autonomia perché questo è un elemento fondamentale, questo percorso, pur essendo un percorso cronologico, costruisce orizzonti culturali, costruisce umani destini che sono tra loro diversi e lontani. Questo è il principio sostanzialmente compositivo del libro. La parte, diciamo, iniziale del libro, la prima parte del libro è un omaggio che io ho voluto fare alla mia città, Salerno, alla sua cultura, tanto è vero che si parte in modo particolare da Masuccio salernitano, quindi ricostruisce tutta la cultura salernitana dal rinascimento all'illuminismo e si arriva naturalmente a Genovesi, cioè un quadro complessivo che va dal rinascimento all'illuminismo. Un altro elemento molto importante è dato anche, e mi ci soffermo a lungo, su una figura molto interessante che è quella di Matteo Ancelo Galdi, quale è stato il fondatore del magazzino enciclopedico salernitano, dove ci sono dei saggi importantissimi, tra cui uno sulla schiavitù, sulla tratta dei negri, che riprende idee fondamentali dal Montesquieu e che per quel periodo, noi lo possiamo considerare di uno dei saggi sostanzialmente di avanguardia su questo tema così importante. L'altro elemento fondamentale è l'attività anche di Matteo Ancelo Galdi a Milano, dove a Milano sostanzialmente lui si impegna sulla riforma teatrale del teatro come educazione naturalmente rivoluzionaria per quel periodo, e soprattutto ecco uno dei primi a sostenere la necessità di una repubblica in Italia. Oltre naturalmente a questi elementi fondamentali di partenza, un'altra attenzione, io la dedico al poeta, più importante di Salerno, che Alfonso Gatto. Però attenzione, non il solito ragionamento generico su Alfonso Gatto. Si entra in particolare, soprattutto nella sua officina, nel suo laboratorio, attraverso un'indagine sia delle varianti, sia degli elementi intertestuali, sia delle fonti, e soprattutto ecco, si arriva anche a una definizione di quello che io ho definito, cosiddetto ermetismo forte, trovaccio sostanzialmente, di Gatto, e come Gatto viene collegato all'interno del panorama poetico europeo. Finito questa prima parte, che abbiamo detto una parte più strettamente, collegata a un'idea che mi riporta alla mia città, alla cultura della mia città, e così comincia naturalmente con Dante. Con Dante, che è collegato in modo particolare a un'idea della musica, che, attenzione, non è fatta in maniera generica, ma riprende in modo particolare le formulazioni teoriche che vanno da Boezio a Tommaso d'Aquino, che Dante conosceva benissimo, e che naturalmente poi poggiano soprattutto sui campi dell'Empirio, e l'Empirio che naturalmente è in un certo senso il punto fondamentale della visione, del silenzio, però la musica, ecco, viene sostanzialmente, c'è l'elemento polifonico del canto corale, viene messo in evidenza soprattutto nella mariofania, cioè nelle tre apparizioni della Madonna, in cui naturalmente noi abbiamo l'elemento più strettamente musicale. Un altro elemento, un'altra attenzione fondamentale è data a Petrarca, un Petrarca però eccovisso attraverso due direzioni fondamentali, da una parte Petrarca è visto in modo particolare attraverso Vico e quindi attraverso un'interpretazione completamente di nuova, dall'altra poi è collegato anche a Dante, e a questo punto collegandola a Dante e quindi interviene ancora in modo particolare una funzione importantissima della poesia moderna che è collegata a Pasolini. Come Pasolini interpreta Dante, un Pasolini che interpreta Dante su naturalmente base alle indicazioni date dal suo maestro Gianfranco Contini e naturalmente lo riprende sia nella Divina Mimesis che è l'ultimo libro che naturalmente Pasolini aveva consegnato all'editore e nel suo romanzo postumo con i famosi gironi che noi ritroviamo anche in Petronio. A questo punto l'altro elemento fondamentale si sposta a uno dei centri anche delle mie ricerche che è naturalmente dato dal periodo del primo ottocento e di Foscolo in particolare. Il primo punto messo in evidenza è la presenza degli intellettuali napoletani a Milano. Il rapporto degli intellettuali di quel periodo con Napoleone e naturalmente ecco io metto in evidenza questo rapporto attraverso due tragedie importanti il Pausania di Sanfi dove ci sono ancora le illusioni naturalmente sul Napoleone e la Iace di Upo Foscolo dove c'è la delusione sul comportamento di Napoleone su cui naturalmente poi Foscolo ecco ritornerà e un altro usaggio molto importante su questo aspetto particolare tra luce e ombre nella famosa lettera apologetica al centro è un elemento molto importante a cui naturalmente ho dato rilievo diciamo di un certo interesse è il notturno romantico di Foscolo è un attraversamento di tutta la poesia foscoliana nel rapporto con la notte e ci sono dei passaggi molto interessanti che riguardano soprattutto il momento dei sepolcri quando le stelle sono pie sulle sepolture la bellissima visione notturna della Vergine Romita dell'arno illuminato dalla luna mentre lo guarda Galileo Galilei sono descrizioni bellissime naturalmente sulla base di due elementi fondamentali che è il bello e il sublime per Foscolo il bello è la notte illuminata dalla luna mentre il sublime è rappresentato dal notturno assoluto e questi sono due elementi fondamentali che mettono anche in rilievo il romanticismo foscoliano poi c'è un momento che io chiamo intermezzo che è dedicato in modo particolare alla critica ai problemi della traduzione si parte anzi proprio dal problema della traduzione sulla base di alcune indicazioni fondamentali date da Umberto Eco il famoso libro il dire quasi la stessa cosa ci sono naturalmente una serie di riferimenti importanti di come alcuni poeti moderni come Quassimodo come lo stesso Pasolini come Sanguinetti hanno tradotto interpretato i classici antichi in modo particolare Sofocle in modo particolare lo stesso Eschilo ma direi anche di un Sofocle che io faccio in modo particolare dei rapporti con Sanguinetti attraverso Elderlin la famosa diciamo interpretazione e traduzione data da Elderlin all'inizio dell'Ottocento un altro aspetto particolare riguarda De Sanchez i rapporti della critica moderna con De Sanchez che si basa su due elementi fondamentali da una parte il confronto il dialogo dall'altro il distacco un riferimento al grande convegno che fu organizzato a Salermo su De Sanchez nel 2017 diciamo in base a questi due elementi fondamentali a questi due parametri fondamentali a questo punto si aggancia a quello che è considerato il maggiore critico del novecento soprattutto per la letteratura contemporanea che è stato anche il mio maestro Giacomo De Benedetti ecco però per la prima volta non visto solamente il rapporto all'elemento come dire strettamente letterario ma alla sua formazione filosofica perché in De Benedetti non c'è solamente Jung Freud come in genere si dice ma c'è una grande preparazione filosofica che va da Bergson da Henry Bergson a Husserl cioè lui parte dall'indizionismo bergsoniano e arriva alla concezione fenomenologica famoso disoccultamento di cui mi parla più volte di Husserl ecco quindi praticamente c'è un affondo sulla preparazione non solo letteraria ma strettamente anche filosofica di Giacomo De Benedetti una parte finale diciamo che riguarda sempre il problema della critica è dedicato a Carlo Salinari un Carlo Salinari però visto anche questo in maniera diversa che discute diciamo su alcuni elementi fondamentali discute sui rapporti con l'avancuardia storica discute con i rapporti con la neo-avancuardia di quel periodo degli anni sessantatre e discute sul neorealismo e l'idea sostanzialmente di Salinari sul neorealismo che si basa naturalmente sull'interpretazione completamente nuova e io ritengo originale che ho naturalmente messo in evidenza realmente in questo saggio c'è poi una quarta parte che io dedico a D'Annunzio non solo per quanto riguarda il D'Annunzio dei sogni ma anche su quelle delle novente soprattutto un momento molto importante che è dato ecco dal rapporto di D'Annunzio con la tradizione in modo particolare con la tradizione popolare lui era molto legato la tradizione popolare abruzzese e la reificazione del saggio in che cosa cioè in queste novelle soprattutto nelle novelle della pescana noi abbiamo questa reificazione del saggio che io ritengo uno degli elementi fondamentali diciamo della novellistica d'Annunziana l'ultima parte è dedicata naturalmente a Novecenti si parte da Pirandello ecco proprio da quel Pirandello da cui io tratto diciamo l'elemento proprio di impostazione del libro ma naturalmente un Pirandello studiato sotto due elementi fondamentali uno è rappresentato dalla sua concezione dell'oltre del tutto nulla e di rapporti anche con Leopardi eccetera ma soprattutto una particolare interpretazione del corpo in Pirandelli del momento del suicidio come momento di annientamento che un altro degli elementi poco investigati in Pirandello ma che hanno un'importanza fondamentale a questo punto l'altro elemento ancora di collegamento non a caso questa volta con Pirandello è dato ad Alberto Sabino dall'idea di Sabino la famosa idea della vita in morte ecco che io studio in modo particolare attraverso una bellissima novella di Edgar Allan Poe che mette in evidenza ecco questa idea che in effetti si trova già in Poe e che viene diciamo poi sfruttata in maniera magistrale da Alberto Sabino un altro punto importante è dato ecco da Sinisgalli da Leonardo Sinisgalli soprattutto non solo del Leonardo Sinisgalli fondatore della città delle macchine il rapporto naturalmente tra l'istinto e il calcolo che sono gli elementi diciamo naturalmente Sinisgalli ma anche della sua attenzione alla pittura moderna in primis naturalmente i suoi interventi su Picasso in modo particolare sull'architettura del tempo ma anche sui grandi poeti penso per esempio ai suoi interventi su Baudelaire su Manuarmé eccetera e anche sullo stesso Leopardi che sono diciamo un intervento molto importanti di Leonardo Sinisgalli un'attenzione particolare è dato anche a un poeta che in questo periodo naturalmente non grode di molto successo ma che comunque ha avuto un'imperazione molto importante ecco che è Albino Pierro Albino Pierro attenzione è interpretato in una maniera nuova cioè non solo interpretato come dire nella chiave della cosiddetta melancolia e quindi nel valore allegorico naturalmente che è questa da Baudelaire a Walter Benjamin anzi di un Baudelaire letto proprio da Walter Benjamin e naturalmente fondamentalmente ecco applicato con certi distingue anche alla poesia di Albino Pierro siamo agli altri due diciamo saggi importanti uno è dedicato a Primo Levi però attenzione non il Primo Levi di Sequestro si è fermato non il Primo Levi diciamo fondamentale del diciamo di Sequestro è un uomo diciamo scusi è tanto parlato con i suoi rapporti con la letteratura del tempo con Levi con Carlo Levi eccetera no ma un Primo Levi che si interessa della fantascienza attraverso non solo un'opera importante che è donata storia naturale ma attraverso la sua idea fondamentale cioè che la scienza poteva diciamo da una parte essere in funzione del progresso del benessere ma dall'altra estremamente pericolosa ecco Primo Levi aveva già dato diciamo questo allarme un allarme importantissimo che naturalmente fa parte di un altro elemento importante di Primo Levi da collegare al suo famoso romanzo La chiave a stella dove il protagonista rappresenta l'homo faber che si dovrebbe opporre diciamo a una tecnologia che può portare più elementi distruttivi che positivi ecco quindi un Primo Levi interpretato in maniera completamente diversa indipendentemente anche se con una serie di collegamenti al suo libro più famoso se questo è un uomo e anche La tregua è l'altro libro importante di Primo Levi infine ecco Leonardo Sciascia il Leonardo Sciascia che parte in modo particolare dal caso Moro dalla scomparsa di Majorana che però è interpretato attraverso un'idea di fonda ancora una volta Edgar Allan Poe famoso autore della lettera rubata che naturalmente come tutti sappiamo poi è stata tradotta in francese magistralmente da Baudelaire ebbene ecco l'interpretazione cosiddetta della invisibilità dell'evidenza ecco questa interpretazione è fondamentale per capire in che modo ecco Sciascia interpreta la vicenda del caso Moro e soprattutto i suoi rapporti che vengono naturalmente intracciati in questo discorso da una parte con Manzoni il Manzoni della storia della colonna infame che non a caso lui aveva pubblicato con la sua prefazione ma naturalmente anche con Pirandello che lui riteneva diciamo fortemente affine diciamo tutti e due sostanzialmente siciliani quindi risentiva moltissimo l'influenza di Pirandello ma anche con Cervantes e con Bordes che sono elementi fondamentali diciamo in questo età quindi un'interpretazione anche questa completamente diciamo nuova di Sciascia questo è un po' il panorama complessivo diciamo ho detto un po' troppo velocemente con degli elementi essenziali di questo libro un libro che non a caso ha una sua funzione importante perché ecco nella copertina del libro voi troverete non a caso un libro che sembra che sia sulle onde ecco questo è quasi proteso sulle onde sembra solcare le acque e questa è proprio l'immagine del testo un testo che deve viaggiare in modo particolare sulle mosse o impere il tempo e deve andare come dice il titolo verso lontani nuovi e diversi destini grazie